Ok, molto velocemente, ho pensato un esercizio di questo tipo Ah, 2, 3, 4 Ah, 3, 4 Vediamo nel dettaglio Questa è la struttura lenta Non ribatterò per 2 Mi interessa chiarirti i movimenti Apertura Per cui, anche se vado a rielevare un po' Quello che mi interessa dei movimenti è dire Or gay, or gay, ok Per cui, la fluenza deve essere 3, 4 Io qua ribatto 2 Ok, per cui è importante questo fatto Memorizzalo E buon lavoro